La Sant'Anna di Jacopo Bassano se ne va e lascia sola il sindaco Elena Pavan di fronte alla città e alla sua storia. La cessione della pala del Daponte all'Accademia di Venezia ha causato una reazione durissima anche dagli amici dei musei. In uno scenario fosco e luttuoso varcare nuovamente in questi giorni le porte del museo è stato per noi una gioia, funestata però repentinamente dalla scoperta di un'ulteriore quanto inaspettata perdita scrive Raffaella Mocellin, presidente del sodalizio bassanese che rincara subito. L'uscita di scena di un'opera che ormai era parte integrante della nostra memoria induce a riflettere sul significato della parola crisi che ha connotato tutti i discorsi degli ultimi mesi in relazione a diverse situazioni. Il sindaco Elena Pavan aveva annunciato di voler coinvolgere l'associazione nella scelta di un nuovo dipinto da portare a Bassano in cambio della pala di Sant'Anna ed ecco la risposta degli amici dei musei. Non possiamo che ribadire nuovamente la nostra disponibilità a fornire, come già avvenuto in altre occasioni, contatti con esperti di assoluto prestigio che possono dare il loro contributo. Altro che collaborazione, il rifiuto è tanto cortese quanto secco e questo non è l'unico ceffone culturale che il sindaco rimedia in questa vicenda. Sentite cosa dice una persona che di musei se ne intende. Io devo dire che effettivamente questo dipinto deve tornare a Bassano perché è stato pagato dal territorio, lo ha sottolineato il sindaco di Asolo ieri sera, era per i riformati di Asolo. Ecco cosa ci aveva detto il sindaco di Asolo. Beh guardi, io penso che moralmente quella pala sia di Asolo e di tutto il territorio dell'Asolano e del Bassanese e della Pedemontana. Lo hanno pagato i cittadini asolani con le loro offerte quando andavano al convento. Personalmente se io fossi stato il sindaco di Bassano del Grappa non avrei mai mollata perché è un pezzo da 90 che deve restare nel nostro territorio. Perciò Guderzo dice questo di chi rischia di passare alla storia come colei che ha regalato Sant'Anna ai veneziani. Un'azione così direi infamante nel pensare di sminuire il contenuto di un museo come quello di Bassano cedendo tanto, tanto no, il dipinto alle Accademie di Venezia lo trovo veramente fuori luogo. È fatto così in sordina, in silenzio, nessuno sapeva nulla.